Ciao, sono Luca Parmitano. Volevo ringraziarvi per aver partecipato a questa iniziativa organizzata dalla Agenzia Speciale Italiana e da Arvotec e voglio fare le congratulazioni a tutti voi per aver vinto in questo modo questo premio che sto firmando adesso, come potete vedere. Eccolo qui. Specialmente per voi. A presto!